Ciao ragazzi, ciao ragazzi, bentornati o benvenuti in questo nuovo, nuovo, nuovissimo video Allora oggi siamo qui perché pratica magi, non so se mi vedete bene, ho il microfono attaccato, sono molto professional Oggi ve l'ho detto nelle mie storie di Instagram, mi sto incercando perché c'ho il flash e penso che lo disattiverò adesso Adesso molto meglio Allora, ve l'ho detto dalle storie di Instagram, dobbiamo fare l'albero Non è l'8 dicembre, porta sfiga, porta tanto sfigata sono, rimango sfigata Quindi andremo a fare l'albero Andremo a fare l'albero, mi accompagna di mia niputtina Andremo a fare come niputtina, non Ilaria ma l'altra Ve la vedrete ogni tanto sbuccando nel video perché non farò il video diretto con lei ma eviterò di riprenderla Perché piccolina mamma mi ha detto fai il video ma cerca magari di nascondergli la faccia Quindi ok Oh ragazzi sono buonissimi questi cosi, giuro Comunque Terry Dove vai Terry? Terry Allora prima di tutto Ciao Noi dobbiamo Ciao bella gnocca Allora noi dobbiamo innanzitutto prendere le cose che si trovano esattamente là dietro Si trovano esattamente là dietro Quindi adesso vado Qua Adesso vado a recuperarle e noi ci vediamo dopo C'è Non ci stai No ci passo E ci passo Eh ma tu sei piccola Sara Non ci arrivi Ciao Sì io non vedo niente Sì io non vedo niente Ah c'è qua C'è una sedia C'è una bussa C'è una ragnatela che vi sto mangiando E' una bussa E' una bussa E' una bussa Uè Terry Cos Vediamo se ti vedi benissimo In tutto il suo splendore Ecco lì abbiamo Lì abbiamo un po' di palline Di Natale Qua c'è la bimba che sta sistemando E qua c'è Una paletta Questo è in teoria In teoria è il nostro sgabuzzino Questo Prego Mila Adesso cerchiamo di montare l'albero Terry l'intruso ci dirà come fare Eh come fare Allora Adesso monto Sara tu controlla Ok E mi Sara mi fa da controllore Allora Sì C'è mia mamma che sta besticendo Sta besticendo Con il frigo C'è anche un casì E che casì Allora Questo va Tac Eh ma non No Aspetta ho idea C'è anche un po' di l'intrusa papà natale! esattamente! esattamente! vai più giù, vai più giù, vai più giù, vai più giù, vai più giù! ecco l'intrusa! cosa c'è nella fronte? non per dire ma l'albero è quasi finito, qua ci ho messo il telo rosso, ecco qui è quasi finito, lì c'è la nostra Terry ciao Terry, ciao Terry, wow! e qua abbiamo tutto un ambaradà ecco adesso vado a mettere tutte le altre cose abbiamo tutto questo raga ecco qua l'albero è fatto eccolo qui questo qua lì vai oh no! ha sorrido se non funziona ciao mi sono guardato solo... mi sono vista solo un minuto mi sono vista solo un pochino che bello bellissimo c'è ragano i re allora abbiamo fatto tutto fatto l'albero abbiamo fatto un po' di decorazione questo è mio abbiamo messo madre spostati abbiamo messo decolazione lì poi abbiamo fatto una sorta di mini presidino qua esattamente perchè io sono sacco qui sono regali qua adesso ci mettiamo adesso ci mettiamo i regali qui e poi c'è un po' di natale e abbiamo un po' di natale non per dire ma la busta di regali è è tipo enorme cioè gigante eccoli qua ma quello più grande è suo ovviamente e poi ci mettiamo i regali è un po' di natale e poi ci mettiamo i regali e poi ci mettiamo i regali a tutti bene ragazzi questo era il video questo era tutto il mio jingle bell con l'altro le mie spalle io vi saluto spero che questo video vi abbia fatto compagnia avesse servito non lo so spero che il mio ritorno vi sia vi sia gradito io devo ringraziare vero consolino forever che trovate su instagram e vi lascio in caso il suo link il suo profilo instagram in descrizione lo ringrazio per questa foto che sarebbe anche la foto del mio profilo adesso quindi lo ringrazio io ho la busta dei regali ancora quella gigante lì e quindi niente io vi saluto e vi aspetto al prossimo video come sempre lasciatemi un like iscrivetevi al mio canale vi lascio i miei instagram telegram con sotto in descrizione io vi lascio un bacione ora posso soltare l'intruso intruso intruso ciao abbiamo finito di fare il nostro albero di natale ci vediamo alla prossima volta yes ciao 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 ciao